buonasera a tutti dovreste sentire la mia voce vedere anche il monitor ovviamente un feedback in chat sempre gradito allora partiamo subito con il webinar di oggi vi raccomando prendere sempre nota del discremere dell'avvertenza sul rischio in quanto i cfd sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di tic 1000 euro ltd perde denaro facendo trading con i cfd valuta se comprendi come funziona nel cfd e se puoi sostenere elevato rischio di perdere denaro allora questa sera parleremo di cot report insieme a me daniele garlando trader e direttore della community di ml robot però come sapete prima di entrare nel vivo c'è sempre la presentazione del broker che rappresento tic 1000 in questo caso tic 1000 europe perché siamo sotto regolamentazione sisec con registrazione presso la consob con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro tic 1000 è un broker non di l'indesco il che significa che al cento per cento delle posizioni vengono inviate liquidate provider la velocità di esecuzione è ultra rapida parliamo di una media di 0,2 secondi grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato non ci sono commissioni sugli indici e sono disponibili anche i micro lotti sugli indici americani e dax con tic 1000 non avrete mai un record e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune come scalping arbitraggio e chi più ne ha ne metta e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi questa che vedete adesso nella slide è uno screenshot che ho preso dal sito della consob tra i vari intermediari senza succursale troverete tic 1000 euro con la licenza e numero di iscrizione 43 10 allora sul lato forex e cfd tic 1000 offre tre tipologie di account il conto pro il conto vip che sono i conti più utilizzati perché partiamo da spread da zero con commissioni molto basse poi c'è il conto classiche che non ha commissioni però gli spread sono un po più alti perché partiamo da 1.6 inoltre oltre ai cfd tic 1000 ha inserito da qualche mese anche prodotti su mercati regolamentati parliamo di futures e opzioni attraverso la cqg potete trovare tutte le condizioni applicate dal nostro sito web oltre alla cqg c'è la possibilità inoltre di avere le connessioni api per poter collegare il nostro data feed sempre parliamo dei mercati regolamentati sulle varie piattaforme come training view multi chart sierra chart e anche la ninja trader ritornando sul discorso cfd questa è una tabella che ho preso dal sito di my facebook molto famoso che racchiude un po tutte quelle che sono le condizioni tra spread e commissioni che applicano i broker a livello globale noterete che per la maggior parte del tempo tic 1000 ha le condizioni migliori rispetto ad altri broker bene rendete conto ovviamente dal numero che è più basso rispetto agli altri ma anche della casellina che si illumina di verde e sta a indicare che appunto le condizioni sono migliori rispetto ad altri broker e racchiudo un po tutte quelle che sono le commissioni applicate sul lato forex prendendo come esempio un lotto di euro dollaro dove sul conto pro si pagano 4 euro run turn sul conto bip 2 euro run turn che rispetto alla media degli altri broker che ho visto più o meno applicano 6 euro in apertura e chiusura il risparmio con il conto pro è di circa il 30% invece con il conto bip ben oltre il 60% allora io ho terminato la condivisione e do il benvenuto a daniele che qui con noi per la prima volta ciao daniele mi senti a giuseppe eccomi qua perfetto allora ti puoi prendere lo schermo se vuoi quindi condivido dammi conferma che mi vedete sì perfetto perfetto posso iniziare sì allora dovresti anche poi vedere le domande ma ti seguo io come dicevo prima durante i nostri check del caso e poi quindi se ci sono delle domande pertinenti magari io ti fermerò un attimo in modo tale da spiegare dei concetti che magari potrebbero sfuggire come dicevo prima parleremo di cot report e quindi a daniele ci spiegherà un po come interpretare i dati su sul cot report e daniele se vuoi anche presentarti un attimo visto che è la prima volta che facciamo un webinar insieme in casa tic mil probabilmente ci saranno anche i tuoi studenti ma anche molti trader che magari non ti conoscono e ti vedono per la prima volta molto volentieri intanto questa come prima slide ho messo una slide che potrebbe servirvi per qualunque motivo oggi abbiamo una lezione di una quarantina di minuti ovviamente su un argomento vastissimo come è quello come vedremo dei 4 appunto anche molto molto interessante a me personalmente ha cambiato più l'approccio al trading quindi anche un po la vita conoscerlo in modo approfondito ed è veramente un tool come anticipato da giuseppe capace di rivoluzionare di sconvolgere un po la vita del trader che ci si appassiona e prima di iniziare prima di presentarmi ecco volevo dire che qua c'è la mia email quindi daniele garlando che c'è la gmail.com qualunque cosa vogliate approfondire vogliate chiedermi al termine di questa sessione nei prossimi giorni un feedback sulla lezione potete serenamente farlo risponderò sicuramente a tutti voglio ringraziare in particolare tic mil e giuseppe per questa opportunità è sempre bello chiaramente poter fare della buona formazione conoscere persone nuove e se possibile mettere il nostro piccolo seme di conoscenza o comunque di quello che sappiamo le piccole cose che sappiamo alla alla portata di tutti perché la condivisione è una cosa importante anche nel trading e voglio ringraziare il broker perché non devo aggiungere nulla a quello che ha detto prima giuseppe quindi oltre al fatto di essere qua io non ci guadagno nulla in termini praticamente economici però devo dire che spendo una parola volentieri per voi giuseppe per il broker perché in questo periodo sia io personalmente che i miei studenti nei clienti i nostri robot che sono attualmente attivi stiamo utilizzando questa piattaforma che funziona molto bene io insegno sempre che meglio meglio sarebbe mettere i soldini su un broker nodile in desk come spiegava prima giuseppe non voglio andare nel dettaglio in questo ringrazio comunque l'eccellente customer service e l'eccellente operatività del broker tic mil grazie da dire grazie mi fa molto piacere e sono ne sono contento grazie a te sempre disponibilissimo e credo che davvero questa sia sia qualcosa che parlo da credere adesso prima ancora che da insegnante da responsabile di tante persone e l'esperienza di cui abbiamo bisogno abbiamo 40 minuti circa io farò in modo di darvi delle informazioni che sicuramente siano le più interessanti possibili suscitarvi interesse per questo campo molto interessante di farvi capire tante cose e per tutto quanto quello che appunto mi voleste chiedere potete fare riferimento a me ovviamente in questo tipo di lezione introduttiva su un argomento così importante dobbiamo come formatori partire da un approccio semplice ossia normalmente quando io faccio eventi a trae dal come voi come credo suppongo che siete voi e ci sono magari 200 persone in questi classici eventi di trading che conoscete anche voi e chiedo faccio la domanda quanti di voi conoscono il quattro apport quanti di voi lo applicano per fare trading normalmente le mani che si alzano sono pochissime ecco io vorrei come grande goal di questa di questo webinar o quello di fare chiedere di mettere dentro la domanda tutti quanti voi mamma mia ma com'è possibile a coloro che ancora non lo conoscono ovviamente che questo questo tipo di operatività io ancora non la conoscevo e verrai verrai ma vedremo andando più avanti chiaramente sono sempre contento di insegnare perché giuseppe mi ha chiesto due parole su di me sarò brevissimo per non rubare tempo all'argomento io non vengo non arrivo al trading dalla finanza non arrivo al trading da una famiglia benestante insomma diciamo approcci classici che ci sono per arrivare al trading arrivo al trading da tutt'altro campo che è quello della psicologia particolarmente da quello della psichiatria dove ho lavorato per otto anni e dove ho conosciuto tante persone che perdevano un sacco di soldi col gambling e fra questi ho conosciuto delle persone che perdevano un sacco di soldi col trading perché avevano un approccio sbagliato essenzialmente e allora il mio scopo è stato inizialmente tanti anni fa ormai quasi 15 anni fa è stato quello di quando quando iniziato il boom del trading online 2009 2010 soprattutto è stato quello di cercare di capire questo mondo per cercare di capire perché fosse così affascinante perché la gente perdesse mi ci sono appassionato in prima persona ho sbattuto tante volte la testa contro il muro anch'io non c'è niente di scontato lo sapete benissimo oggi il mio scopo da formatore e prima che come lavoro io parlo come mia professionalità quindi quella faccio formazioni da vent'anni e appunto vengo dalla psicologia il mio scopo primario è quello di cercare di semplificare il trading semplificare non significa renderlo banale o facile significa puntare cercare di aiutare le persone ad arrivare a una consapevolezza tale da operare in quello che io chiamo un trading sereno che cos'è essenzialmente il trading sereno è un trading che per cui non stai appiccicato ai grafici per intenderci 10 ore al giorno è un trading che cerca di applicare la legge di pareto che tutti voi probabilmente conoscete il principio del massimo risultato quel minimo sforzo quindi cercare di trovare delle modalità che siano le più professionali possibili per capire come fare un trading che abbia un peso psicologico emotivo sempre minore e dall'altro punto di vista che possa dare degli ottimi risultati vedremo oggi che questo probabilmente possibile e io vi ho spiegato questo e termino qua la mia presentazione per non dilungarmi troppo su quello che faccio insomma sulla nostra scuola bellissima al nostro robot e così via ci sarà occasione di di parlarne bene che poi sono gli applicativi no le strategie di trading applicate alcune delle cose che vedremo oggi e poi ad altre per non dilungarmi andare direttamente sul cot però sì questo questa piccola presentazione mi aiuta tantissimo a entrare nell'argomento del cot perché veramente il cotta questa capacità il cotre pont è una cosa talmente efficace e potente che un certo larry williams che probabilmente quasi tutti i presenti perlomeno conoscono chi per chi non sapesse chi è larry williams larry williams è un simpatico signore di circa 80 anni che nel 1987 stravinse il campionato del mondo di trading realizzando quello che tutt'oggi è ritenuto il primato del mondo il record del mondo di trading cioè lui fece una prestazione del più 11 mila per cento in un anno più 11 mila per cento detto in soldoni significa che lui partì tradando col suo conto da 10 mila dollari sui futures ovviamente alla fine dell'anno questo conto da 10 mila dollari segnava un milione e più più di un milione 100 mila dollari questo significa fare l'11 mila per cento in un anno quindi larry williams probabilmente uno che di trading qualcosa ne capisce è simpatico che larry williams ha puntato tantissimo sulla formazione oggi c'è una simpatica usanza che dice chi come che dice chi sa fa chi chi non sa insegna una cosa di questo tipo questa questo fa sempre è irritante no per noi formatori da ascoltare perché con buona pace di socrate di platone di gandhi di buddha di gesù cristo di mille altre persone che si potrebbero elencare che bene o male qualcosina insegnando l'hanno fatta è un concetto sbagliato che nasce anche un po dall'ignoranza sicuramente oggi nel mondo del trading c'è un proliferare di prodotti non del tutto buoni diciamo che cercano di accalappiare per la gola le persone per cui io credo che partire dalle cose serie dalle cose istituzionali mettiamola così dalle cose che hanno delle basi e dei promoter diciamo di un certo livello anche di una certa stazza elevatura morale possa essere una buona base per vivere una buona esperienza di trading noi ci concentriamo tantissimo su 12 mila cose che ci vengono dette date insegnate però magari non conosciamo il cotrepo ecco tre perché è una cosa veramente bella 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 e lo vediamo passo subito passo subito al volo così cominciamo direttamente subito sui cot poi se mi volete chiedere qualche se avete anche qualche domanda in riferimento all'approccio più psicologico ecco emotivo che sicuramente la cosa che a me interessa cioè non è che mi interessi più però è quella dove probabilmente magari è una cosa in più che possiamo dare sentitevi liberi anche su questo di contattarmi non soltanto sull'aspetto dei cotri do la mia massima disponibilità voi che siete presenti questa sera per iniziare a parlare dei cot a bomba parto da questa prima slide che mi ha mandato giuseppe che ho ricevuto dal broker quando è uscita la data del 5 maggio per questo webinar perché è una slide che mi piace da matti sintetizza tantissimo di quello che vi ho detto fino adesso e sintetizza tantissimo di quello che stiamo per andare a vedere stasera insieme questa slide come interpretare i dati del cotre pont e così via ha uno sfondo che a me piace da matti mi immagino questo trailer molto particolare questo trailer sereno che anziché stare davanti a una mega postazione 25 ore al giorno con gli occhi parlati in un po di tossicodipendenza da grafici che attenzione non c'è nulla di male in questo ognuno ha le sue modalità e tutti noi bene o male che siamo qua abbiamo passato delle giornate intere magari grafici però mi piace molto questa immagine perché parla di un mi fa pensare a un trailer sereno che la sera prima di andare a letto dopo cena o la mattina appena alzato con la sua tazza di cioccolata calda controlla butta un occhio sul suo semplicissimo notebook come quello davanti a cui vi sto parlando in questo momento io faccio trading davanti a un notebook con molta serenità in modo tale ha potuto fare viaggiando e sempre in giro e lì con tutta serenità butta un occhio ai mercati perché ha delle posizioni in corso ha delle operazioni in corso che magari sono delle operazioni che si chiuderanno fra tre mesi o magari fra due settimane perché perché la prima cosa molto molto importante che c'è da avere ben chiara quando parliamo chiaramente del del cotreport e che ci stiamo riferendo a un trading di lungo periodo quindi tu non potrai mai capire a fondo il cotreport se lo leggi utile al tuo trading normale da speculatore chiaramente intraday non dico proprio scalping ma magari in breve multiday o in intraday il trading sul cot vedremo bene soprattutto in una seconda lezione se sarete interessati a farla se appunto avrete mostrerete un interesse ecco io vi piena disponibilità per fare una lezione la prossima un prossimo webinar un secondo webinar di strategia operativa sui grafici di trading sul cot quindi oggi capiamo esattamente la grande puntata di questo strumento la prossima volta facciamo proprio una lezione sui grafici e capiamo già mettiamo un bel tassello su come tradare sui cot e il cot il trading sul cot imparerete lo state anche per vedere che almeno dal nostro punto di vista per quelle strategie che che stanno dietro alla nostra conoscenza del dell'argomento sono strategie sul lungo termine e poi vi spiegherò bene perché questo prima però di passare all'argomento in sé chiudo una parentesi aperta poco fa le williams il simpatico ottantenne primatista del mondo di trading chi ha fatto tanto nella sua carriera l'ha impostata tutta molto sul formare le persone bene pochissimi sanno e forse pochissimi sicuramente è probabile che tu non lo sappia che mi stai ascoltando qualcuno lo sa però molti non lo sanno le williams ha basato da sempre base ha basato da sempre tantissimo sui cot repont sulla lettura del cot repont meglio ancora potrei dire che chiaramente è strettamente collegata come vedremo al cot repont sulle posizioni delle mani fronti sui mercati quelli che noi chiamiamo le mani fronti cioè di coloro che dove c'è la ciccia sui mercati capisci dove vanno sui mercati le mani fronti forse probabilmente questo ti vale più di 150 indicatori perché le mani fronti evidentemente si dà per scontato che qualcosina dei mercati la conoscono le williams talmente amava e amato ama i cot repont credo tutt'oggi che ci ha fatto anche un indica ci ha fatto anche l'indicatore ci ha fatto il libro sui segreti delle mani fronti quindi stiamo parlando di un qualcosa come vi dicevo prima che un qualcosa che poggia su fondamenta solide io credo che questo sia sempre importante la storia di un qualcosa ma vedremo che sono ancora di più ecco è ancora più grande il valore del cot repont allora per iniziare a capire a entrare subito nella logica che sta dietro a questo tool importantissimo è stravolgente potenzialmente per una visione di trading a 360 gradi vi chiedo ti chiedo di immaginare che ci sia qualcuno che ti dice che esiste di immaginare se non sarebbe bello per te se qualcuno ti dicesse che esiste un modello di trading che ti dice che puoi prendere dieci dodici strumenti l'anno soltanto dieci dodici strumenti lo sapete in gran parte lo dico per chi magari non lo sapesse si intende quattro cinque valute due indici prendi 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 il dow jones qualche materia prima prendi il palladio prendi prendi quello che piace a te dieci dodici strumenti all'anno non di più aprirci sopra una sola operazione in tutto l'anno e ricavare da ciascuna di queste operazioni una media del 10 15 per cento sulla tua equity line ecco se qualcuno ti dicesse che è possibile una cosa di questo tipo un 10 15 per cento su una sola operazione su un'operazione per 10 12 strumenti quindi su un 10 12 operazioni in tutto l'anno la media di un'operazione al mese fa quasi il 200 per cento in interesse composto stiamo parlando del 180 200 per cento di di sull'equity line ovviamente abbiamo letto un disclaimer all'inizio di questa live ovviamente un broker che lavora bene presta l'attenzione anche a quelle cose sappiamo tutti io do per scontato che sappiamo tutti e non c'è bisogno di ce lo diciamo qua che il trading non è facile che il trading richiede soprattutto tanta una grande forma mentis appunto l'impegno e la predisposizione quindi la disciplina e la predisposizione se non si va da nessuna parte però concettualmente posso garantirti che nella seconda puntata di questo webinar se appunto avrete questo desiderio di farla ti farò vedere non riuscirò a farti vedere 12 12 esempi ovviamente nell'arco di un'ora di lezione ma posso garantirti che te ne farò vedere almeno 4 del 2020 dove si applica esattamente questa cosa ovviamente non posso spiegarti o non puoi capire adesso come appunto quello sarà nello step successivo ma ti lascio con questa domanda immagina che esiste un modello di trading che ti dice che puoi fare tutte queste cose e beh probabilmente diresti mamma mia e capiresti perché sono partito parlando del trading sereno il fatto che io arrivo dalla psicologia della psichiatria e perché mi piaceva molto quell'immagine di quel trader col notebook con la tazza di cioccolata calda che butta un occhio mezz'oretta al giorno sui grafici questa immagine qua l'immagine dell'euro dollaro nel 2020 euro dollaro nel 2020 questa immagine parte da maggio in gran parte di voi lo sapete ma maggio perché perché maggio è dove si è segnato un minimo particolare da cui poi c'è stato un rialzo gigantesco a inizio nella prima metà di maggio l'euro dollaro quotava uno è arrivato a toccare uno 07 80 giù di lì e questa immagine a me piace moltissimo perché queste linee che voi vedete sono linee che noi abbiamo tracciato c'è registrazione di questo per chi non ci credesse in nelle nostre analisi però al di là di questo quando era sull'1 08 il euro dollaro intorno all'11 12 di maggio a fine anno euro dollaro stava quasi a 1 24 euro dollaro ha fatto da quei primi giorni di maggio al 31 di dicembre del 2020 quasi 1600 pips di profit non so se tu sai esattamente cosa significa quasi 1600 pips di profit per capirci bene apro velocemente per scontato che ci sono delle cose che sono importantissime che nessuno sa quindi magari lo dico però che qualcuno che molti non sanno quindi magari lo dico perché a qualcuno può servire così facciamo formazione a 360 gradi abbiamo visto 1600 pips fatti innanzitutto da euro dollaro per sapere quanto vale un pip la formula è molto semplice tu vai su una calcolatrice digiti 0.0001 cioè tre zeri e poi l'uno che il valore del pip sulle valute come euro dollaro qui ovviamente stiamo parlando del valore del pip sulle valute e sulle valute come euro dollaro che stanno a 1 punto e qualcosa dopo prendi il pip cioè questo numero qua lo dividi per il prezzo coerente del euro dollaro in questo momento siamo intorno a 1 20 mi chiamo rotondiamo chiaramente a 1 20 ovviamente tu metteresti le quattro cifre se lo vuoi mettere tutto e moltiplichi questa cifra per la size con cui tu vai a mercato ora supponiamo un conto da mille euro se tu non sei un gambler ti avranno insegnato o avrai imparato che o meglio diciamo se sei una persona a cui piace un certo tipo di serenità nel trading andrà andare senza leva quindi per arrotondare su un conto da mille euro entreresti con un micro lotto 0.01 io personalmente insegno a tradare in leva bassissima che è la leva 2 quindi ho su un conto da mille ai miei studenti la mia strategia quello che stiamo vedendo stasera quello di cui a cui ho accennato prima quello che vedremo si basa tutto su un trading che è fatto stando fra la leva 1 e la leva 2 la leva 2 significa mediamente che io applico nelle mie operazioni quindi che io entro a mercato su un conto da mille con size di 0.02 voi sapete che un lotto equivale a 100.000 un mini lotto equivale a 10.000 un micro lotto equivale a mille quindi dire che io entro in 0.02 vuol dire che io entro con 2000 quindi pip diviso valore della valuta della coppia di valute per 2000 questo e mi darà il risultato di questa operazione mi darà il valore del pip su un conto da mille in leva 2 ovviamente divido per due per saperlo in leva 1 il risultato è 1,16 periodico la nostra calcolatrice di tickmill sapete che c'è un tool bellissimo su tickmill che il forex calculators quindi basta scrivere tickmill calculators su google voi vi ritrovate in una immagine di questo tipo dove avete la vostra valuta di euro selezionate il vostro strumento in questo caso l'euro dollaro e andate a mettere come abbiamo detto per esempio su un conto da mille andate a scrivere la vostra size in questo caso la leva 2 lui l'ha arrotondato chiaramente a 17 centesimi perché perché ha arrotondato chiaramente per eccesso questo risultato questo qua questi questi 0,16 sei periodico di valore e il valore dello spostamento di un singolo pip ma allora 1600 pip su un conto da mille euro secondo questa logica fatti chiudendo l'operazione al 31 gennaio significa 266 euro si che ha il 26 27 per cento sulla sua sull'equity line perché vi ho fatto vedere questo perché alle volte a dire delle cifre come quella di prima come quello che io ho fatto fatto poc'anzi no quando io vi ho detto io ho detto questa cosa qua aprire una sola operazione ricavare da ciascuno semplice operazione su un singolo strumento il 10 15 per cento voi avete detto sì vabbè buonanotte e vi ho fatto vedere che entrando col timing giusto su euro dollaro sapendo dove entrare se ne facevano chiudendo il 31 dicembre quindi non c'è trucco non c'è inganno io quando non ho messo c'è apposta ho preso un esempio di uno dice alla fine dell'anno al 15 di dicembre prima delle vacanze di natale chiudo tutto che siano 1500 1600 pips di profitto perché vi ho fatto vedere questo vi ho fatto vedere questo non per generare falsi entusiasmi o quello che è il cot non è il sacro graal il sacro graal non esiste ma posso assicurante che questo lo sappiamo benissimo ma posso assicurante che questa previsione questo consiglio che io diedi in live che era un momento di comprare questa cosa qua derivava in larga parte da sapere leggere il cotrepo sapere leggere il cotrepo più la strategia approfittevole che sta alla base chiaramente perché da solo leggere il cotrepo chiaramente senza una strategia e un money management appropriato come tutte le cose non servirà niente e quindi impariamo una logica quando vediamo specialmente questa ci apre appunto all'opportunità di una seconda lezione operativa quindi non ti dimenticherai mai più di questo che mettere insieme il la conoscenza del cotrepo più il sapere riconoscere alla perfezione i livelli di breakout cioè i livelli di rottura cioè i livelli di cambiamento del trend come in quel caso di euro dollaro quindi sapere quando il momento di entrare attraverso l'analisi dei cot e sapere aspettare il momento perfetto avendo una strategia seria sui livelli di breakout è quello che a nostro avviso equivale a poter è una di quelle cose una di quelle cose che permette di poter operare con un trading profittevole sui mercati il breakout è molto importante come verremo estrettamente correlato ai cotrepo perché e quindi vi dirò delle cose che probabilmente sono molto interessanti che forse non avete mai sentito e questo per un binomio bellissimo il qual è la bellezza del breakout il breakout si intende la per chi non lo sa la rottura no quindi un trend che andato per esempio in quel caso abbiamo visto un euro dollaro che era sceso ok già da parecchio tempo a un certo punto ha cominciato a salire in realtà lì aveva ballato prima aveva fatto un paio di oscillazioni su e giù abbastanza elevate però rimanendo in un range contenuto a un certo punto lui fa una rottura importante e questa rottura la vedremo appunto nel secondo step la rottura è ciò che permette di anticipare il mercato e che sia importante anticipare il mercato non lo dice solo il principio del trading sereno di cui parlavo prima ma ci viene in soccorso una persona che forse un po una persona cattivissima secondo tanti una persona però molto conosciuta che forse qualcosina di come si guadagna in finanza però la sapeva ed è questa persona qua il barone di Rothschild io vengo dalla germania quindi ci tengo alla pronuncia Rothschild e non Rothschild chiaramente all'americana e lui diceva questo che vedete scritto in inglese dice compra quando c'è il sangue sulle strade anche se questo sangue il tuo il momento perfetto per comprare è il momento in cui c'è sangue sulle strade al di là dell'immagine truculenta del signor Rothschild prova a pensare cosa significa nel trading cosa sta dicendo lui loro hanno fatto evidentemente dei patrimoni in che modo comprando nei momenti di panico quando tutti vendevano quindi applicando il cosiddetto e andiamo al cuore di questa lezione il cosiddetto atteggiamento contrarian sui mercati cos'è l'atteggiamento contrarian contrarian e mentre il prezzo scende io compro mentre il prezzo sale io vendo quello che significa quello che ha detto lì Rothschild mentre mentre i prezzi scendono mentre tutti sono nel panico e vendono 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 vai in iper venduto cosiddetto e tutto si gioca lì iper comprato iper venduto come ti farò vedere io compro quando tutti vendono compro il prezzo scende non me ne frega niente coro il rischio di vedere che la mia equity line scende perché so che dopo raccolgo viene a dire i cadaveri no vista l'immagine truculenta che utilizza il barone di Rothschild ecco questo è il principio del breakout c'è una filosofia del trading che dice trend is your friend trend is your friend anche no perché se tu io dico sempre che se tu tradi esclusivamente va bene per gli indici va bene per determinate cose che tendenzialmente se le sai leggere può avere un senso ma beh per le valute per quella che è la mia esperienza aspettare 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 poi entrare perennemente in ritardo a favore di trend è il modo migliore per bruciare i conti modo per fare trading profittevole è beccare le rotture siccome è Rothschild che ci dice questo cosa ci dice Rothschild qua e andiamo a capire il succo di questa lezione che i mercati sono governati dalla emozionalità dalla emotività e quindi noi che siamo speculatori stiamo nella chiaramente nella emotività il cosiddetto infatti si usa il termine sentiment sui mercati e i fuori classe no i fuori classe sono dei piccoli robot che pensano alla lunghissima perché il loro obiettivo non è fare il 2 per cento in scalping e in iperleva oggi ma il loro obiettivo è fare il 200 per cento fra l'anno e questa è la è la base di tutto e ci apre al cuore il cuore del cotreport che ha una particolarità fondamentale quindi viviamo in cioè noi abbiamo deciso di operare di vivere in un campo estremamente emozionale che quello del trading dove le emotività lo sappiamo tutti anche per esperienza ma per la maggiore non è che magari c'è la possibilità di abbassare il tasso emotivo nostro e quindi di darci tre punti di vantaggio in più rispetto ai nostri concorrenti sui mercati e io ti dico che esiste perché la particolarità del cotreport è quella di fornirci un dato reale inequivocabile di quello che sta succedendo ora sui mercati e di quello che si presume che andrà a succedere ovviamente bisogna saperlo leggere lezione eventuale numero due ma ora concentriamoci bene sulle parole il cotreport ci fornisce un dato reale e inequivocabile eppure magari non l'avevi mai sentito o l'avevi sentito ma nessuno ti aveva mai stimolato a saperne di più mamma mia eppure uno strumento che daniele dice che dà qualcosa di molto molto concreto non dice daniele fortunatamente lo dicono anche persone molto più in gamba di lui perché il cotreport è uno strumento fondamentalmente nato per dare trasparenza ascolta bene leggi con attenzione il cotreport nasce per dare trasparenza tu pensa noi operiamo nell'over the counter mercato non regolamentato dove c'è di tutto e di più pubblicità di prodotti insulsi sul trading broker che ti chiamano a casa gente che si vuole fare le scarpe l'un con l'altro il cotreport nasce per dare trasparenza cioè per rivelare e diffondere informazioni pubbliche sulle transazioni finanziarie aperte o chiuse in questo momento dai big players le cosiddette mani forti che operano sul mercato dei futures e che molto probabilmente avranno un impatto fortissimo sui rispettivi sui rispettivi mercati correlati quindi il cotreport è una informazione pubblica che ci permette di sapere quello che fanno le mani forti se impariamo a leggerlo ci dice lo stiamo per vedere se le mani forti dei mercati i grossi squali dei mercati stanno comprando stanno vendendo non sarà che probabilmente questa è l'informazione più importante o comunque un'informazione di un valore assoluto che può e dovrebbe avere un trader prima di decidere quando andare io per esempio ti ho detto che lavoro sui breakout e non vedo l'ora di fartelo vedere spero tanti cioè mi piacerebbe tantissimo farti vedere l'operatività così te li faccio vedere questi stramaledetti breakout anzi siano sempre benedetti perché ti cambiano veramente la vita quindi io opero la mia strategia io faccio trading su qualcosa d'altro qualcosa di operativo ma alla base ti assicuro che l'attenta lettura ricco treppo mi aiuta tantissimo perché mi fa capire se il dollaro diventerà da qua per un mesetto potrebbe essere forte e magari mi faceva capire quando che euro dollaro alla fine dell'anno inizio anno era da vendere era da vendere lasciamo perdere il rialzo grosso che ho avuto nelle ultime settimane aperta e chiusa la parentesi che cos'è il coach report il coach report è un resoconto rilasciato settimanalmente ogni venerdì dal sito internet dell'agenzia governativa americana cftc commodity futures trading commission allora è un report che ci viene che noi riceviamo che noi possiamo vedere aggiornato costantemente salvo che nei giorni di festa ovviamente il venerdì sera in orario europeo in orario italiano e viene pubblicato sui dati del martedì precedente ossia sostanzialmente è un resoconto che ci dice qualcosa che stiamo per vedere ma ormai l'hai capito quello che fanno le mani forti sui mercati quello che hanno fatto la settimana prima i dati della settimana prima sono trasmessi il martedì e vengono poi ordinati e pubblicati e resi pubblici il venerdì quindi noi li riceviamo con una settimana di ritardo ma se abbiamo detto che stiamo parlando di un trading a lungo termine non ce ne frega nulla di questa settimana di ritardo anche perché il valore che c'è dentro evidentemente fortissimo come stiamo per vedere e questo quote report viene rilasciato dalla agenzia americana cftc che è quella che ha il compito di dare quella trasparenza di cui parliamo qui stiamo parlando di una di una roba istituzionale stiamo parlando di un istituto di vigilanza e te lo faccio capire meglio facendoti vedere questa slide qui siamo sul sito della cftc cftc.gov e ti voglio fare notare qual è la missione della cftc cftc quindi istituto di vigilanza per il controllo insomma sul sul tutto dice qua guarda leggiamolo qua la missione della cftc è di promuovere l'integrità la resilienza la direi vivibilità la la sarebbe la vivacità la vitalità quindi la la vivibilità diciamo dei mercati americani sui derivati attraverso una regolamentazione sicura una regolamentazione solida quindi ha il lo scopo il gol di promuovere l'integrità ma non finisce qua e per farlo ti condivido il sito così intanto ti do anche degli strumenti operativi molto importanti già oggi sito della cftc cftc como firenze torino como punto gov ok si apre questo template qua questa immagine qua che vedi e la cftc è quella che pubblica il cotrepo che cos'è il cotrepo e il commitments of traders cot è l'acronimo di commitments of traders tu devi andare qua sul menu in alto cliccare semplicemente su market data quarto tasto da sinistra market data e analisis il secondo nella finestra e il cot commitments of traders e perché ti sto facendo questo per fare fatti capire che cos'è il cotrepo guarda cosa dice qua nella presentazione del cotrepo la cftc dice pubblica chiaramente come abbiamo visto ogni venerdì pubblica il cotrepo i cotrepo i commitments of traders per aiutare il pubblico a capire le dinamiche del mercato cioè questo strumento ti rendi conto del valore che ha è nato per aiutare le persone per aiutare chi noi innanzitutto per preservarci da frodi da tentativi di frodi e cose così ovviamente perché l'istituto di vigilanza sui derivati quindi stiamo parlando di robe che a noi interessano in prima persona e non possiamo qua dilungarci sui significati delle parole però andiamo al succo per aiutare il pubblico a capire le dinamiche dei mercati e il pubblico è così stavo per dire deficiente però c'è non è colpa del pubblico il pubblico è così poco aiutato a conoscere determinate cose che c'è pochissima gente che conosce sta roba vengono venduti corsi su tutto viene detta la qualunque cosa su tutto e poi abbiamo una un istituto di vigilanza americano che ci dà i dati in america dove c'è la ciccia non a francoforte a chicago a new york ci dà i dati di quello che sta succedendo negli stati uniti sui futures e tra poco vediamo cosa significa e noi non lo sappiamo e questo è particolare no ritorno alle slide come ti dicevo appunto qui abbiamo visto la cftc che aiuta a capire le dinamiche dei mercati ora il concetto chiave seguimi bene è che nel mondo del trading giocano big players io li chiamo così o le cosiddette mani forti che sanno che sono quelli che sanno dove verosimilmente andrà il mercato e che non hanno nessuna intenzione di perdere i loro soldi allora noi abbiamo un documento che è redatto settimanalmente un abbiamo dei grossi player e abbiamo un istituto di vigilanza che ci dice come quelli sono sono mercato cioè ci dice se la scorsa settimana le mani fonti dei mercati hanno comprato o hanno venduto ma quanto può essere importante sapere se jp morgan ha comprato o venduto o venduto se un hedge fund di proporzioni galattiche ha comprato o venduto future contratto future sull'euro io credo che sia abbastanza importante e alla base di un buon trading lo crede anche Larry Williams chi sono questi big players che stanno sui mercati sono due categorie quella devi capire assolutamente bene per capire tutto il resto oggi e in seguito i non commercial e commercial i non commercial quindi le mani fonti le mani fonti sono in si dividono in due categorie i non commercial che sono coloro che usano i futures a fini meramente speculativi sono anche chiamati large speculators i grossi fondi per esempio loro cosa fanno cercano di guadagnare il più possibile chiaramente da quell'operazione esattamente quello che facciamo noi che proviamo a fare noi solitamente non ci riusciamo noi noi trader noi fondamentalmente ecco chi è un po più preparato ci riesce però il 99 per cento di italia fanno un po più di fatica ma siamo speculatori proviamo in quel piccolo range di tempo nei nostri amati cfd la differenza di avercela in profitto piuttosto che in perdita la categoria ancora più interessante è quella del signorino Rothschild adesso capisci perché t'ho fatto ti ho portato come forma mentis questa cosa e la categoria di pensiero di quelli che veramente sanno com'è la ciccia e hanno delle aspettative sui mercati e questi sono i commercial che sono quelli che usano i futures con un atteggiamento contrarian ti ricordi quando parlavamo prima del breakout il trend è long io vendo il trend è short io compro perché ho aspettativa e anche per ridurre il rischio sono magari delle organizzazioni ovviamente che hanno dei pontafogli talmente ampi ampli che chiaramente li devono li li proteggono in questo modo non posso dilungarmi ma che operano con quell'atteggiamento contrarian di cui parlava prima il nostro amico il barone di Rothschild adesso hai capito chi sono le mani forti quindi cosa ti dice la logica che abbiamo delle mani forti una categoria di mani forti che compra e mentre quelli comprano gli altri vendono perché utilizzano il contrarian ricordati di questo e questo qua è il nostro code report ora non te lo posso evidentemente spiegare nel dettaglio ma ti voglio fare notare delle cose molto importanti quindi tu sappi che ogni venerdì questo è l'ultimo pubblicato come ti dicevo ogni venerdì quindi venerdì 30 aprile poi ci sarà il prossimo pubblicato dopo domani l'ultimo è stato venerdì 30 aprile sui dati del martedì 27 aprile come ti dicevo la setti sui dati della settimana precedente che sono stati trasmessi al martedì 27 aprile il 30 aprile è stato pubblicato questo cedolino e questo qua il cedolino che per esempio su cosa su e su tutti gli strumenti tradati a chicago piuttosto che a new york sui futures eccetera eccetera quindi ci sono tutti gli strumenti possibili immaginabili di pertinenza chiaramente alle borse americane questo qua però ne prendo come esempio quello sull'euro che probabilmente ti interessa e voglio farti notare una cosa importante che innanzitutto abbiamo le nostre due categorie le mani fonti sono chiamate in gergo tecnico reportable positions non commercial e commercial ok e cosa noti rispetto ai non commercial cioè gli speculators quelli che se c'è l'aspetto se il mercato sta andando su comprano i commercial sono quelli che se sta andando su vendono quindi attuano l'atteggiamento con te andy rochild ok che cosa vedi qua i long e gli short aperti la scorsa settimana dalle mani forti nota che se i non commercial sono in prevalenza in acquisto i commercial che sono stati molto furbi avevano caricato tanto in vendita quindi non commercial in maggiore long commercial in maggiore short voglio farti notare una cosa così ci capiamo su quanto sono importanti questi dati ogni singolo contratto ogni singolo contratto vale 125 mila euro la scorsa settimana solo la settimana anzi due settimane fa quindi la settimana precedente dello scorso cot c'erano in ballo 672 mila contratti fatti due conti su cosa significa 672 mila contratti per 125 mila euro in una sola settimana su un singolo strumento che l'euro e forse questo dato long dei non commercial e soprattutto questo dato short dei commercial possono dirci qualcosa lo vedremo chiaramente bene potremmo vederlo bene nella seconda puntata vi faccio notare un'ultima cosa che questo cedolino mette anche le non reportable positions che sono diciamo c'è di tutto e di più però sono anche il cosiddetto parco buoi cioè quelli che come si vede non sanno c'è non hanno assolutamente una valenza sui mercati vanno assolutamente a caso solitamente in versione in dal lato opposto cioè se se sono long le non reportable position ci sono concrete possibilità che se tu vai short fai bene e perché sono sono le persone che sono le emozionali sono le sono quelli che sono sono puntati avanti dai mercati open interest chiaramente sono i contratti come ti dicevo non possiamo chiaramente dilungarci però insomma abbiamo visto parecchie cose molto 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 importanti adesso ti rendi conto perché dobbiamo andare chiaramente alla conclusione in questi dieci minuti io sono sicuro che adesso il mio scopo era quello di farti capire quanto fossero importanti i cot ma non è finita qua non vedo l'ora di fare una roba operativa anche con te anche con voi però ci rendiamo conto di quanto sia potente quello che abbiamo davanti cioè abbiamo i cambiamenti rispetto alla settimana precedente abbiamo è tutto un mondo c'è un corso venti ore diciamo dei miei corsi di trading in venti ore bastano per imparare bene a tradare con i cot con una formazione giusta veramente per fare quel trading soddisfacente di cui avevo parlato all'inizio del del webinar ti posso garantire che venti ore fatte bene bastano avanzano unendo la strategia delle rotture alla lettura corretta dei cot ma oggi concentriamoci su quanto è importante sapere che esiste un cedolino pubblico alla puntata di tutti che ci dà questi queste robe qua queste queste robe qua che sono eccezionali e di cui pochissimi parlano è incredibile o no voglio farti una cosa prima di andare alla conclusione di questa di questa live di presentazione voglio aiutarti per farti capire come fare ad andare a vedere il cot perché sono sicuro che qualcuno magari ha questa domanda allora sito della cftc.gov ci sarà la registrazione ma tu cerca di seguire e ce la farai serenamente segui bene adesso prendi appunti poi magari ci vai dopo comunque cftc.gov quanto pulsante in alto sul menu in alto da sinistra market data and analysis il secondo commitments of traders cioè il cot ci clicchi sopra nella pagina che si apre che abbiamo visto precedentemente vai qua su storici visualizzabili ok quindi sono i cot quindi sulla seconda colonna dove c'è scritto cot gli storici visualizzabili ci clicchi sopra e ti compare un calendario come vedi un calendario pazzesco di tantissimi anni questo è il calendario che ti fa vedere ogni singolo venerdì in cui la data è quella del martedì come come dicevamo prima però che sono i documenti che ogni vendì da tantissimi anni 15 20 anni vengono pubblicati supponiamo che tu voglia aprire per esempio quello del primo dicembre del 2020 quindi del martedì quindi uscito il quale venerdì 4 dicembre del 2020 tu ti trovi di fronte a questa pagina di storici visualizzabili vai giù vai giù vai giù vai giù finché non arrivi a chicago mercantile exchange attenzione va bene anche il board of trade che sarebbe banalmente dove c'è il dow jones se vuoi vedere dow jones devi andare qua oppure il new york eccolo qua mercantile exchange tanti strumenti che usi soprattutto sulle materie prime ok e non mi e non mi soffermo probabilmente chicago mercantile exchange è il più interessante quindi clicco su questo ci dice dove c'è la ciccia e questo cedolino ci dice come sono praticamente vedete che ci sono il si inizia con delle commodities delle materie prime burro latte e così via devo andare un po' spedito chiaramente e poi arriviamo quel cedolino che abbiamo visto sull'euro arrivano quelli finanziari quindi abbiamo il rublo russo abbiamo il dollaro canadese abbiamo il franco svizzero abbiamo il peso messicano abbiamo la sterlina abbiamo fino ad arrivare allo yen giapponese fino ad arrivare all'euro che abbiamo visto non abbiamo solo questo abbiamo anche poi altre cose interessanti dove erano zelandese dal brasiliano dal sudafricano poi abbiamo bitcoin bitcoin ce l'abbiamo qua e stiamo per vedere che forse può essere una cosa molto carina voglio farvelo vedere che ce la facciamo ora vi voglio fare notare una cosa importantissima e farvi un piccolo regalo quando sono andato qua secondo lo schema che vi ho fatto vedere perché magari volete vedere anche altre borse volete vedere new york volete vedere il board of trade chicago e quindi non soltanto il chicago mercantile exchange vi ho fatto tutto l'elenco dei passaggi che dovete fare notate una cosa però non so per quale motivo ma sul sito della cftc sono sempre non una settimana ma due settimane in ritardo vi ricordate che prima ti ricordi che prima ti ho fatto vedere un cedolino che diceva 27 aprile pubblicato il 30 aprile sui dati del 27 vedi che qua il 27 non c'è ancora verrà pubblicato dopo domani non so come mai ma ti risolvo la questione io in questo modo copiati questo link in registrato in live adesso e qui questo link ti servirà per andare sul sito della cftc e avere in tempo reale venerdì sera se tu clicchi su questo link tu venerdì sera alle 11 di sera 10 di sera tu hai avrai quello aggiornato al 3 maggio sì e o il 4 maggio cos'è sì il 4 maggio di man peric e il sito è quindi cftc.gov slash dea e daniele magari riesci a collegare lo metto in chat lo metto in chat lo copio e lo metto in chat mi metto in chat io non ho potuto vedere le domande ma ho quasi finito e poi le vado a leggere subito alla fine tu dimmi se siamo se abbiamo sforato solo più due cosette da dire importanti assolutamente chiamo in cinque minuti anche perché c'è tanta roba e vi ho messo adesso in chat confermami solo che è arrivato a tutti il link della allora l'hai mandato a tutti gli esperti ah scusa lo copio io e lo mando hai mandato sì sì lo faccio io adesso non ti preoccupare prosegui pure dammi solo solo il feedback quando è arrivato allora vi do vi do appunto dieci secondi per copiarlo questo link poi andiamo avanti ma tanto si vedrà anche nella registrata perché ho aperto la pagina apposta in modo tale che potete anche rivederlo dopo questo è per l'averlo in tempo reale ora prima di salutarci o anticipo una domanda che forse qualcuno ha ovviamente qua trovate di tutto e di più non trovate per esempio il dax perché chiaramente stiamo parlando delle borse americane ok ci sono delle cose analoghe sul sentiment che prova a fare anche l'europa unì l'europa e quindi ci sono alcuni dati su sentiment su dax strumenti così ma qui stiamo parlando di quei prodotti che stanno là di quei prodotti ma di quegli strumenti che stanno che stanno là su quel mercato quindi sicuramente avete l'S&P 500 avete il Nikkei avete 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 il Dow Jones avete US Tech avete queste cose qua avete dove c'è la ciccia diciamo ok perfetto e vorrei adesso voglio lasciarvi con delle chicche con un paio di chicche anche per stimolare in qualche modo la vostra diciamo la vostra poi ricerca personale individuale sappiate che chiaramente lo possiamo vedere appunto lo vedremo bene in una lezione pratica ma esiste un tool gratuito ne esistono diversi io ne uso diversi ai miei studenti ne insegno diversi ce n'è uno che è molto efficace che ti farà capire da subito e ti invito a divertirti divertiti in questi giorni cerca comunque anche se ci capisci ancora poco dopo ci capirai molto di più te lo posso assicurare ma senza andare a spendere soldi 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 esiste un tool che assolutamente gratuito che cosa fa che prende questi dati qua e te li mette visibili e ti faccio vedere come fai caso fai caso al dato dell'euro che abbiamo visto prima ok quindi fai caso al future dell'euro che ci dice che ci sono circa 80 mila contratti in più long dei non commercial e circa 140 mila 135 mila in più dei commercial short ok tieni a mente questi dati e questa piattaforma si chiama timing charts timing charts puntocom questa è una piattaforma molto utile molto carina proprio non ho tempo adesso chiaramente a spiegarti ma segui quello che faccio io così poi puoi farlo anche te ci vai lì sopra qua vedi che ec è l'acronimo di euro ok del future sull'euro se volessi mettere yen giapponese tu non sai com'è l'acronimo scrivi japanese yen qua e poi lo cerchi ti viene e sai che j y è l'acronimo che devi scrivere ti interessa nikai scrivi nikai e ti viene fuori l'acronimo che è nk ok in questo caso ci interessa l'euro bp e british pound eccetera eccetera vedi cosa c'è scritto qua ci dice già una cosa bellissima pensa che bello questo tool questo è il grafico dei prezzi di euro dollar probabilmente l'hai già riconosciuto e ci dice future sull'euro al cme qua c'è scritto cme chicago mercantile exchange allora ci dice quello che abbiamo visto fino adesso vai qua a metterti le tue belle candele qua sopra poi mettiamo cinque anni chiamo uno spazio di cinque anni così abbiamo uno spazio più largo questo è l'andamento dei prezzi di euro dollaro cioè il future si intende chiaramente livello dei prezzi al cambio con il stiamo parlando dell'america no quindi al cambio col dollaro quindi tutti gli strumenti sono sul dollaro quindi in questo caso questi sono il future dell'euro questo il prezzo di euro dollaro e vedi qua cosa c'è cot commitments of traders quello di cui abbiamo parlato fino adesso una piattaforma completamente free online tu la apri e sotto ti compare l'andamento dei cot la linea verde sono i non commercial gli speculators la linea blu sono i commercial i rocci quelli che attuano l'atteggiamento contrarian ti faccio solo notare perché non c'è più tempo e poi sguazzaci tu in questi in questi giorni questo dal primo dei due piccoli regali che ti volevo lasciare alla fine guarda a occhio nudo come la linea verde dei non commercial e o no identica praticamente all'andamento dei prezzi di euro dollaro e allora forse in conclusione ti ho fatto capire perché è importante conoscere l'andamento dei cot report soprattutto se invece decidi di seguire questi qua blu come faccio io di cercare la rottura e quindi di essere sempre in anticipo entrare short quando il mercato è qua entrare long a maggio quando il mercato era qua entrare long quando il mercato qua lo impareremo probabilmente insieme l'ultimo l'ultima chicca che ti voglio fare perché importantissima e scusa sono un po sforato spero che comunque sia stato di tuo interesse questo webinar però ti dice ancora ti voglio dare ancora una piccola cosa perché ha a che fare con l'importanza di questo tool ed è il bitcoin capirai da queste slide ancora di più io te lo spiego in tre secondi ma arrivaci ci arriverai questo è bitcoin al 27 di aprile come quello che abbiamo visto su euro ti faccio notare anche che quanto vale il contratto di un bitcoin 5 bitcoin quindi tanta roba voglio farti notare una cosa notala bene bitcoin dove stanno messi gli speculator a 2.000 contratti short in più e non ti voglio dire nient'altro i deficienti del mercato quelli che sono manipolati quelli che stanno un po più diciamo l'enore portable position il parco buoi dove sta sta di brutto in long se moltiplichiamo per il valore inficio questi sono tanti soldi quindi gli speculator stanno sono in vendita sono in short e la carne da macello in long questo di per sé io dico sempre di non tradare su bitcoin noi diamo le indicazioni il robot dà le indicazioni abbiamo preso un bel una bella indicazione la scorsa notte che bitcoin è passato poi da 57.000 53.000 insomma quindi sicuramente è però è un giochino bitcoin io personalmente non consiglio di tradarci ma mi aiuta a farti notare una cosa le non reportable positions spesso e sempre dalla posizione sbagliata noi siamo spesso e sempre portati a essere dalla posizione sbagliata perché c'è qualcun altro che vuole guadagnare su di noi nei mercati ma anche perché ci mancano le basi ma quello che voglio farti notare ricordati questa situazione in cui non commercial molti più short e le e il parco buoi molti più long ti ricordi quando è diventato future bitcoin il coni diventato future a fine dicembre a dicembre 2017 da quel momento possiamo vederlo tracciarlo poi cotto questo è un articolo del sole 24 ore del primo dicembre 2017 arrivano i features su bitcoin via libera dall'autorità usa via libera ufficiale per i contratti features sul bitcoin con la cftc quella di cui abbiamo parlato oggi quindi abbiamo parlato di qualcosa di importante l'organismo usa che sovrintende ai derivati quello che abbiamo letto insieme ha autorizzato sia il chicago mercantile exchange che ha imparato oggi se non conoscevi prima che il chicago bond option exchange qua manca una o alla negoziazione dei contratti sulla credito valuta da dicembre da dicembre da metà dicembre 2017 bitcoin e la dove c'è la ciccia il primo dato che avevamo sui cot era questo qua chicago bond eccolo qua i non commercial stavano in molti più short e non reportable positions stavano in molti più long siamo a fine dicembre perché questi sono i dati del martedì 19 dicembre 2017 pubblicati il venerdì 22 dicembre sui dati della settimana precedente quindi siamo a fine dicembre sono i primi dati che abbiamo su bitcoin fine dicembre 2017 bitcoin a fine dicembre 2017 stava qua dal 4 febbraio 4 gennaio al 4 febbraio è sceso i 10 mila dollari la prima grande mazzata che si sono presa sui denti prima di quella di febbraio del 2020 e prima della prossima quelli che stavano comprando 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 perché tutti i nuovi network e le nuove che tanta tanti tanti influenza delta di diciamo di comprare questo è quello che ha fatto bitcoin questo chi avesse saputo leggere i co3 pop da quel dato che ti ho fatto vedere non comprava assolutamente bitcoin al limite lo vendeva e si salvava la pelle questo questa è la bellezza del co3 pop sono stato un po più lungo del previsto ho parlato per più di 50 minuti volevo stare in 40 vi ringrazio per la per la pazienza e per l'attenzione sono a vostra disposizione per eventuali domande se se ne avete se ci sono delle cose che avete desiderio di chiedermi o di condividere e lascio a te la palla a giuseppe sì Daniele ci sono diverse domande allora diamoci uno spazio di cinque minuti per rispondere perché ce ne sono diverse praticamente Gianni chiede dove è possibile reperire i dati in un formato leggibile da smartphone sai qualcosa se è possibile anche credo che magari è anche timing chart sia disponibile da smartphone sai su smartphone io appunto parlo di trading sereno e molte volte appunto io insegno a usare lo smartphone per la mt4 e tutto io ti do un consiglio mi hai detto si chiama Gianni vero? sì tutti questi siti li puoi vedere benissimo lo stesso documento di cui ti ho dato il link come tutte le cose io io dico questo rientra proprio nella parte del poco tempo che io cerco di spendere davanti ai grafici cioè questa questi sono quei dati che secondo me è importante vedere davanti un computer nel senso che tu devi avere presente avete presente le immagini che vi ho fatto vedere poco fa su su timing charts un'immagine così ti dati da un quadro incredibile ma la stessa lo stesso documento del cot visto così riesci a vedere tutti quanti i dati approfondendo e conoscendo nel dettaglio cosa dice questo cedolino io soltanto guardando tutti questi dati su una stessa pagina ho tutto quello che mi serve per tradare il mio consiglio è chiaramente io non credo proprio poi magari è una mia non lo so ma timing charts sono di sicuro non credo proprio che esista un'applicazione per il per l'iPhone o per l'Android se quella è la domanda di di della magari c'è della safety si non ho mai guardato io personalmente queste sono le poche cose per cui cerco di stare davanti al pc perché mi metto davanti a questo template che vedete in questo momento e io qua ho tutte le informazioni che mi servono per le prossime settimane perfetto allora ti ringrazio a Gianni Gabriele ti fa i complimenti ottima lezione grazie per l'ottimo corso per avere un corso approfondito dove possiamo informarci magari appunto allora faccio ricondivido in questo momento ti ringrazio tanto della domanda mi fa piacere che vi sia che siano bastati questi minuti e per riuscire a trasmettere di quanto sia bello scrivetemi pure a danielegarlando.com perfetto io lascio intanto di qua fino alla fine adesso delle anche delle domande lascio questa slide qua davanti così avete la mia la mia email anzi facciamo una cosa magari la metto anche in chat la scrivo anche in chat velocemente sì io intanto ti leggo le altre domande una più tecnica di una cosa per favore giuseppe dove devo cliccare per mandarlo tutti e non soltanto te allora c'è un si apre un filtro tutti gli esperti e spettatori ah perfetto l'ho mandata in questo momento da mi conferma ok perfetto ottimo allora poi mauro ti chiede in time in charts c'è anche il cot index gli si può variare il numero delle settimane quindi non solo 52 fisso ma settabile e se non c'è in time in charts sai dove si può trovare il grafico del cot index così settabile allora il se ho capito bene la domanda te la faccio tolgo tolgo un attimo tanto vi ho messo l'email nella nella chat io ho settato volutamente cinque cinque anni un attimino solo eccolo qua però tu puoi decidere di vedere il mese per esempio che dice pochissimo un anno è già un dato molto carino se lo sai leggere un anno dice già tanto io personalmente qui ci sono tutte chiaramente è una piattaforma gratuita io cerco sempre di dare una esperienza di trading alla portata di tutti e di tutte le tasche quindi se io vado banalmente ai 20 anni vedo un grafico pressa poco inutile vedete com'è dove addirittura qua mancava un dato dove non si capisce niente diciamo che questa piattaforma è da usare sui cinque anni ma anche sui dieci anni buonanotte alcun su alcuni strumenti buona anche sui dieci anni su questi cinque anni però si vede tutto quello che vi spieghi che vi spiegherei che in un in un approfondimento di questo ci basta e ci avanza perfetto allora purtroppo il tempo è scaduto ragazzi io leggo diverse domande però facciamo così l'email di daniele ce l'avete daniele ci chiedono il prossimo appuntamento per approfondire il cotta ancora non abbiamo ho capito mauro scrivimi scrivimi in email è un discorso un po lungo si scrivete scrivete a daniele direttamente per tutte le domande di approfondimento dicevo sulla successiva lezione ancora non abbiamo stabilito una data ma credo che la faremo a breve poi mi metterò d'accordo ci metteremo d'accordo insieme con daniele quindi riceverete un po poi tutte le mail con la data di registrazione del del webinar successivo allora io vi ringrazio per questa ora e grazie soprattutto a daniele molto interessante daniele che legge il cot in maniera molto diversa da come un po fanno anche altri relatori su andando a vedere di più le posizioni su non commercial invece tu poi ci farai vedere come come si muovono un po i commercial sono molto curioso della di capire un po anche questi aspetti sulla seconda lezione grazie davvero e vi do appuntamento alla prossima posso posso dire solo in conclusione due cose piccolissime la prima che vi ringrazio tantissimo per dato un'occhiata alla chat e sono contento che tanti anche abbiano chiesto di fare una seconda cosa c'è una cosa che ha detto davide ti dico soltanto che è una bellissima domanda quella che hai fatto e finviz è un tool che uso anch'io e che consiglio anch'io magari ne parliamo la prossima volta io vi ringrazio tutti grazie mille giuseppe un abbraccio e buon trading a tutti grazie a te daniele alla prossima buona serata grazie a tutti